Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati come sempre, tanto per cambiare qua, nel solito usuale disordine della mia libreria, da me e da un'autentica chicca, tenetevi forte, guardate bene, guardate bene, la maglietta ufficiale del Monsters of Rock 1991, cioè io c'ero a Modena, io c'ero e mi feci anche un male della Madonna, ma non rimpiango un solo istante, un solo singolo livido, un solo singolo accidente preso durante quel cazzo di giornata gloriosa, veramente, vabbè, 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 allora, cari signori, cari signori, cari signori, cari signori, questa sera io e l'amico Gianluca Bertozzi demoliremo insieme, o meglio, l'amico Gianluca Bertozzi mi ha dato un fondamentale contributo per la demolizione di uno dei miti assoluti della seconda guerra mondiale, eccolo qua, lo riconoscete? Penso proprio di no perché è una cosa molto nota ma pochi l'hanno vista, eccolo qui, il traguardo di puntamento Norden, proprio lui, il mitico traguardo di puntamento di fabbricazione americana, il mitico, insomma, il sistema di di puntamento di praticamente tutti i bombardieri americani, un mirino tachimetrico estremamente come dire sofisticato e circondato da un'area mitologica, cioè praticamente agli equipaggi veniva ordinato di distruggerlo a costo della vita in caso di danneggiamento dell'aereo o di atterraggio in territorio nemico, doveva essere, cioè era coperto da un totale e assoluto segreto, cioè era considerato come il miglior mirino per bombardieri della seconda guerra mondiale. Allora, l'amico Bertozzi mi ha tirato fuori una cosuccia simpatica. praticamente, a quanto sembra, secondo quanto mi ha detto l'amico Bertozzi, le prove vennero fatte sui poligoni nel deserto del Mojave, cioè dove, quello tanto per intenderci dove adesso, come adesso, parcheggiano gli aerei in riserva. Nel deserto del Mojave le condizioni di visibilità e luce erano perfette. Il maltempo e l'umidità non si sapeva che cosa fossero e soprattutto in giornate non ventose. Gli equipaggi che fecero le prove con il Norden erano sceltissimi e c'era personale della ditta a bordo a fare la manutenzione a terra. Insomma, e riuscendo a ottenere una precisione nell'ordine dei 90 metri, che per i mezzi dell'epoca era qualcosa di eccezionale. Però c'era una cosa, con gli equipaggi normali, negli stessi poligoni e nelle stesse condizioni, quindi condizioni pressoché perfette, la precisione saliva come minimo a 400 metri di distanza. Cioè praticamente le bombe venivano centrate al posto di un raggio di 90 metri con gli equipaggi selezionatissimi e il personale della ditta a fare manutenzione. Questa percentuale saliva come minimo a 400 metri. Cioè le bombe cadevano entro un raggio di 400 metri dal punto di mira centrale, con manutenzione da libretto, niente difesa e sempre condizioni perfette. Allora, in Europa era tutto un altro paio di maniche perché in condizioni operative si arrivava a 1200 metri di raggio se andava bene. Nel 1945 la percentuale era calata fino a 800 metri. Quindi diciamoci la verità tutto un altro paio di maniche rispetto alle prove fatte nel deserto del Mojave. Allora, tenendo conto che i mirini loft tedeschi e i mirini loft tedeschi sono questi qua, eccolo, questo è un loft, un mirino di puntamento loft tedesco, di fabbricazione tedesca. Dicevo, i tedeschi, i mirini tedeschi loft erano già operativi ed erano anche migliori da usare perché più piccoli e più semplici e più facili come uso. Gli americani, secondo l'amico Bertozzi, potevano risparmiarsi di far giurare agli equipaggi di distruggerli a costo della vita e di farli smontare dagli aerei dopo ogni missione facendoli sempre accompagnare da guardie armate. Molto probabilmente lo facevano per far credere agli equipaggi di avere a disposizione una superarma. Guerra psicologica, il morale delle truppe, il morale dei combattenti. Tra l'altro dopo la guerra i russi smontarono i mirini Norden dai loro B-25 e ci misero i loft tedeschi che funzionavano meglio. Erano considerati più efficaci e più semplici. Per tutta una serie di motivi, la classica farraginosità della macchina burocratica, dell'inefficienza statalista staliniana, i B-25 russi con il mirino loft non riuscirono mai a diventare operativi. E questa qui è una prova sinceramente che il Norden non fosse così speciale. Quella della precisione superiore del Norden è una delle tante leggende della seconda guerra mondiale, una delle tante non dico bufane, sono una di quelle cose che si sentono dire, 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 dire continuamente, che si sedimentano su se stesse e diventano, come dire, verità, inscalfibile, sacra e intoccabile. Poi dopo, come dire, arriviamo io e l'amico Gianluca Bertozzi a prendere a picconate tutto quanto. Che vi devo dire? Cattiveria? Non lo so. Vabbè, scherzi a parne. La dimostrazione di come certi discorsi a proposito della precisione, dei bombardamenti di precisione, fossero quantomeno aleatori, fossero quantomeno discutibili, ok? Perché, insomma, siamo sinceri. Se una cosa come quella delle prove del Milino Norden fosse stata fatta in Italia, più d'uno avrebbe pensato alle mazzette. Beh, certo, perché le prove del Norden furono clamorosamente truccate, né più né meno come top, per dirne una, le prove dell'abominevole Breda B88 Lince, o le prove dell'altrettanto abominevole mitragliatrice Breda 30, o ancora, tanto per dirne un'altra, le prove del Machia MC202, in cui si garantiva il superamento dei 600 km orari. Verissimo. Ma nel libretto di uso del Machia 202 non c'era certo scritto che la velocità di 600 km orari era stata sorpassata da un aereo in assetto leggermente picchiato per guadagnare velocità con metà carburante a bordo e senza armi. Eh! 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 Mazzette anche, forse, che vi devo dire. Il Norden? Un mito, sicuramente, ma un mito, diciamo, destituito di fondamento. Cioè, ripeto, l'amico Bertozzi, quando mi ha fatto presente la cosa, lo ammetto, mi ha colto completamente di sorpresa, mi ha spiegato questa cosa, cioè mi ha, lo ammetto, non lo sapevo. Come ci sono rimasto? Beh, che vi devo dire? Male, perché ci ho creduto. Anche io credevo alla storia dell'infallibilità del Norden, della superiorità tecnologica totale e assoluta del Milino Norden, di questa leggenda della segretezza, della, insomma, della protezione del fatto che il Norden doveva essere protetto a tutti i costi. Mazzette e guerra psicologica. Che vi devo dire? Vabbè. Comunque sia, signore e signori, io spero, come dire, di essere stato utile. Ripeto, il Milino Norden, una delle più clamorose operazioni di autopropaganda fatta dalla US Army Air Force. Volevano far credere di avere una superarma, fecero credere gli equipaggi che si trattasse di qualcosa di superlativo e inarrivabile, ma in realtà le cose erano profondamente diverse. Tutto qui. Quindi, cari signori, tanto per cambiare, io vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.